A M. Santini, buongiorno e ben ritrovati su Bergamo Post. Oggi parliamo della prelazione per la partita contro la Juventus. Si è chiusa domenica scorsa, da oggi, martedì 23 gennaio, parte la vendita libera riservata a tutti quanti, quindi non ci sono altri vincoli, però in prelazione hanno esercitato proprio diritto 8.059 tifosi sui circa 14.200 abbonati. È un risultato, secondo me, molto molto basso, abbastanza incredibile. Non voglio mettermi a discutere su, ovviamente, le esigenze che hanno portato ognuno di quelli che non hanno rinnovato a rinunciare alla prelazione per questa partita, però mi limito a sottolineare alcuni dati. Dalle informazioni che ho io, mancano parecchi posti da assegnare nelle due curve. Parliamo di biglietti che erano in vendita 16 euro più pre vendita, quindi il costo del biglietto, che in generale in pre vendita era decisamente alla portata per una semifinale di Coppa Italia, non mi sembra che sia una determinante. Ovviamente c'è una martedì di lavoro, c'è Dortmund alle viste, ci sono sicuramente tanti motivi che possono aver portato a non esercitare la prelazione, però parliamo del 57% dei posti prelazionati rispetto agli abbonati e secondo me è un numero veramente molto molto basso, anche perché in questa situazione, ricordando che i tifosi della Juventus residenti in Piemonte per ora non possono acquistare i biglietti per via dell'attesa per i tigioni dell'osservatorio, secondo me è un dato che deve far ragionare perché si parla tante volte di come l'Atalanta dovrebbe gestire la prelazione rispetto ai biglietti pensando ai suoi abbonati e si cerca di dare tante volte dei suggerimenti a come devono messi la società, poi ovviamente ci sono anche situazioni in cui bisogna valutare come raggiungere comunque il pienone perché si tratta di una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e come è successo l'anno scorso in cui se ricordate nell'ultima partita con la Juventus è stato scelto di riservare la pre vendita inizialmente ai possibili di Descartes, bene, ci fu un risultato molto molto scarso e quindi quando è stato poi aperto la vendita libera a tutti quanti invece si è raggiunto quasi il pienone. Questo ovviamente non è una polemica con i tifosi, non è una polemica con nessuno però deve far riflettere questo risultato anche perché sicuramente l'Atalanta ha uno zoccolo duro molto importante dei tifosi, in questo caso per una semifinale a Bergamo contro la Juventus dopo 22 anni dall'ultima volta in cui l'Atalanta può raggiungere un obiettivo così importante come la finale, io mi aspettavo qualcosina in più, non so voi cosa ne pensate, una buona giornata a tutti da Fabio Gennari.